già dall'altra parte con il gran canestro abbiamo i bianconeri in azione con l'avvicinamento a canestro la Reggio Emilia ci prova discrepanza tra i due cronometri di qualche secondo buon per la difesa di Reggio che fa ripartire subito l'azione si cerca Ceva li fanno arrivare a quota 12 poi la recuperata di Reggio palla persa è il bellissimo si prende il tiro allo scadere Simone Doneda che già dall'altra parte prova a buttarsi dentro un fire rimette in campo la sfera Reggio che poi trento sulla ripartenza poi la recupera e libera prima parità dei bianconeri sotto fin dal primo minuto di gioco da Zumbel che va nell'angolo di voltolini veramente scatenato però poi chiede troppo prova a mettersi in proprio e perde anche lui la sfera a buttarsi dentro trova nell'angolo Kasper Kissing grazie a tutti grazie a tutti